Nel 2018 scattava tra la Calabria, la Sicilia e la Puglia una maxi operazione denominata Galassia, dove furono arrestate 18 persone per associazione mafiosa, abusivo esercizio dei giochi e delle scommesse, omessa dichiarazione dei ricavi, truffa aggravata e danni dello Stato, con un business quantificato in oltre 4 miliardi e mezzo di euro, che avrebbe consentito alle mafie delle tre regioni di spartirsi qualcosa come 3,2 miliardi di ricavi, ovviamente sconosciuti al fisco. Ora i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello Scico di Roma hanno eseguito in Calabria, Puglia e Abruzzo un provvedimento di confisca di compendi societari, trasse e disposizioni finanziarie per un valore complessivamente stimato in circa 400 milioni di euro, riconducibile ad un imprenditore operante nel settore dei giochi e delle scommesse online, coinvolto appunto nell'operazione Galassia, che aveva la sua base decisionale e operativa a Reggio Calabria, e ramificazione anche all'estero tramite società con sedi a Malta, in Romania, Austria e Spagna. Queste società avrebbero agito mediante un sistema di guadagno a cascata dal vertice della piramide promotore dell'organizzazione al giocatore finale, sistema di fatto trasformato in associazione che avrebbe avuto collegamenti con l'Andrangheta, alla quale avrebbe garantito una parte dei proventi in cambio di protezione e diffusione della piattaforma online e in esercizi commerciali locali. I bookmaker, infatti, avrebbero stipulato accordi con le cosche egemoni sui rispettivi territori di riferimento al fine di consolidare la propria posizione economica sul territorio calabrese, in particolare nella provincia di Reggio Calabria. Infine, i punti affiliati avrebbero trasferito le forme incassate dalla direzione amministrativa dell'associazione allocata all'estero, sottraendola all'imposizione fiscale italiana. Le indagini patrimoniali scaturite in seguito ai procedimenti giudiziari dell'operazione Galassia hanno permesso di confiscare un intero compendio aziendale formato da tre società operanti nel settore dei giochi e delle scommesse online, due trust radicati a Malta, comprensivi dei rispettivi portafogli finanziari, nonché rapporti bancari, finanziarie e sicurative relative disponibilità per un valore complessivamente stimato in circa 400 milioni di euro. Col medesimo provvedimento, inoltre, il Tribunale ha sottoposto all'imprenditore la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la dirata di due anni e sei mesi con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.